musica 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 giornate ma andiamo a questo filo che mi ha fatto la punta all'icapasone metto il filo in dallo specchio ma musica ah ma non gioco l'anima di chi è morto ahahahahah ahahahahah nanni a vostra io so giochi 5 miliardi di unigri a stano che è noi humm stavo cercando di organizzare casquatta già lo sappiamo noi sappiamo tutte le cose e a dove va e sappiamo pure che sta piena di fammere vabbò comunque appurato che è pure fino a vario 8 va organizzare lo sappiamo si hai capito che lo sapete allora l'ho fatto e corsa vario 8 se organizza la pasquetta a cataista gli custerà datene la villa funisce che la roba tutti gli compagni lo sappiamo lo sai che lo sappiamo hai capito cazzo mica sono cretino per questo voglio chiedere se faccio venire le mattine pure seppuccio che fari rassare vabbè non è più cristiana questo non lo potevo dire mica teniamo la palla di cristallo mhm così l'ho fatto aspetta aspetta scusa io voi che siete vecchi ci azzeccate sempre se mi dico questo fatto magari ti potessi pure fare un rialone per ridurre la pensione a fine masi nanni può piacere poveri al noi a duccio paesano ah è me ah è babbana gli scampagnati per la Pasquetta sono due di lunedì e gli cristiani non sapono a quale andare sì e questo già lo sapeva alla villa gli custeretti ci fanno quella di barriotto labbunato invece quella di Pasqualone ci fanno le mattine dello scandinavo mhm buono buono ma siccome il barriotto non mette se poi ce lo vogliono in giro ce ne vanno tutti che da Pasqualone lo ha piaciuto sì sono troppo forte però una cosa da mettere in giro come? cosa ha detto? lunedì alla mattina da chiove che cosa? mmm va buono va buono non prendecene sta mind buono buono buono